Parliamo di disabilità tra vaccini, barriere architettoniche e limiti culturali. Vediamo un po' a che punto siamo arrivati in un percorso sicuramente ad ostacoli che oggi vogliamo attraversare con due esponenti di spicco delle battaglie dei disabili. Sono Ileana Argentin dell'Apparito Democratico che vanta un lungo percorso di impegno dentro e fuori le istituzioni e Luca Faccio, il blogger del Fatto Quotidiano, che non passa giorno senza lanciare le sue provocazioni. Allora, un saluto a tutte e due. Ciao Ileana e ciao Lucia. Ciao Lucia e grazie dell'ospitalità. Allora Ileana, insomma è un po' di tempo che non ci sentiamo. Io ricordo le tue battaglie per la legge sul dopo di noi nel 2016 di cui tu sei stata la prima firmataria. Ecco, insomma, che cosa è accaduto in questi ultimi tempi? Su quali fronti ti sei impegnata? Beh, moltissimo. Prima di tutto mi fa molto piacere e volevo ringraziarti che come sempre sei una delle poche che mette il tasso sulla disabilità. Devo dire che molte cose sono successe, stiamo, sto lavorando moltissimo per quanto riguarda il dopo di noi. Chiaramente con la pandemia mi sono trovata ad avere priorità di tipo diverso, nel senso che ho dovuto fare grandi battaglie per i vaccini in casa, soprattutto per tutte quelle persone che hanno difficoltà, respiratorie gravi ed in più per tutti i caregiver, gli assistenti, gli operatori, i genitori. Insomma, devo dire che è stato un anno molto difficile, non solo per la pandemia che, come dire, con mascherine e distanze abbiamo affrontato un po' tutti, ma nella disabilità c'è stata una difficoltà enorme a far capire, ancora una volta la classe politica, che servivano delle attenzioni che non erano dei privilegi, ma bensì delle attenzioni maggiori per le famiglie che avevano in casa una persona con deficit. Ecco Luca, noi ci sentiamo un po' più spesso, tu sei anche impegnato su Radio Amni Network, ma in questo momento cos'è che ti disturba maggiormente? Qual è il problema principale che secondo te sta attraversando questo paese? In questo momento è una politica che anche sulla pandemia riescono a speculare e a metterci il potere, io sarò, sta roba non la sopporto, io ci metterei più umanità, ma non in senso pietistico, cioè nel vedere i biloni reali delle persone. Questo ci metto a... Tornare all'uomo, tornare all'umanità. Sì, ma continuo a vedere nei giornali e mi arrivano storie di persone che fanno fatica a vaccinare i propri figli e fanno fatica ad essere vaccinati i genitori di bambini piccoli che non possono essere vaccinati per ora. Sono in contatto anche con la Presidenta del Consiglio e la detta stampa del Presidente Draghi e mi hanno detto se ci segnali dei casi particolari ci impegniamo anche noi ad aiutarli. Io lo faccio volentieri, lo faccio sempre, ormai è da anni che pungolo la politica e quando era onorevole pungolavo anche l'Aileana sulle tematiche della disabilità. Non mi fermo, però secondo me non dovrebbe essere un continuo pungolare, è una continua tensione da parte di chi ha già delle difficoltà. Ma io andavo in prima linea anche con Ileana, insomma. Sì, 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 mi conosce bene. Una persona morbida non l'ho mai stata. No, no, ma mi sono messo anche con lei, forse mi sono andato anche contro qualche volta, ma l'amicizia è sempre rimasta e ho cercato di stimolare anche lei. E mi dispiace che da fuori anche lei veda ancora le stupidaggini e le schifezze che la politica sta facendo. Ileana, diritto di replica, questa era una delle domande che avrei posto, visto dal basso e visto dall'alto, tu le angolazioni le hai attraversate tutte, per cui nessuno più di te può essere, diciamo, chiara su questo piano, insomma. Diciamo che la politica sempre di più tende a tornare indietro, proprio anche rispetto a delle conquiste fatte. Per esempio, non ti nego che il Ministero della disabilità per me ha una follia in essere, perché io ritengo che tutti i ministeri debbano occuparsi dei disabili, non ci deve essere un ministero specifico, noi non siamo un mondo a parte, siamo parte di questo mondo e l'idea è che qualcuno ci debba coordinare quando, in quanto cittadini, noi in base alla Costituzione dobbiamo avere dei, come dire, gli stessi diritti e doveri degli altri cittadini. Quindi, diciamo, già il Ministero per me è stato un errore catale. Poi non ti nego che non tollero... Ho visto delle foto, ad esempio, di Salvini che baciano i disabili, sta roba qui, era una roba che culturalmente avevamo superato. E invece vedo un regredire sempre maggiore. E sinceramente, chiunque mi conosce lo sa. Io non ho intenzione di mollare, non mollerò, attualmente sono presidente di quattro associazioni, una delle più grandi d'Italia, e inoltre ho appena preso la terza laurea un mese fa. Però... Sì, questa me l'ero persa. Grazie. Però sono anche una che desidera investire per dare risposte. E mi sembra invece che oggi ci sia solo una ricerca di consensi. E poi, che dire, Luce, i problemi sono sempre gli stessi da tanti anni. Parliamo sempre... Io e te, insomma, ci conosciamo da tanti, lo sappiamo, barriere elettroniche, i trasporti, il lavoro, il collocamento migrato, il rispetto, diciamo, della diversità. Sono tutti argomenti che noi continuiamo a segnalare. Luca, da parte sua, ha fatto un buon percorso in questo senso. Il limite qual è? Che la gente si apre la bocca, si riempie di delle belle parole, e poi, alla fine, ci ritroviamo sempre a doverci incatenare, fare il caso, dover... Cioè, il fatto del vaccino la dice lunghissima. perché se tu pensi che un genitore con un figlio con patologia grave può vaccinarsi e l'altro no, è come se tu dedichi tutto o alla madre o al padre, quando parliamo di ragazzi autistici, per dirti a persone che hanno delle difficoltà importanti in casa. Niente, non c'è modo di fargli capire che uno non basta. Leana, ma tu sei stata vaccinata? Io sono stata vaccinata, ma non ti dimenticare che io sono iliana argentina. Lo dico, vorendo, come dire, fare ironia su me stessa, ma soprattutto sugli altri. Cioè, io ho fatto domande e dopo 20 minuti mi hanno risposto. E conosco gente che ha fatto domande e ancora in attesa. Luca, tu come sei messo a vaccini? Ma guarda, io lo stesso, perché ho mia moglie che è diabetica e hanno chiamato lei come diabetica e ha detto, scusate, io sono considerato fragile, vivo con lei e sono sposato, cosa facciamo? ho chiamato la direzione del direttore sanitario dell'Ulc7, ha detto, stamattina mia moglie deve andare a fare il vaccino, scusate, ci vanno anch'io. visto che dopo lei viene a casa con me, cioè, torna e viviamo insieme, facciamo insieme, lei mi può accompagnare, io vivo con lei, e facciamo una cosa sola. aspetti che provo a sentire, se è possibile. ho detto, se non è possibile, me lo ridite, mi muovo in un'altra strada. Mi hanno richiamato, sì, sì, è possibile, ma stai scherzando, stai scherzando, perché io ho la faccia tosta di andare al direttore sanitario, come lei, Adriana Gentile, per il suo nome, per il suo trascorso politico, per il suo carattere, ha detto, ragazzi, so qual lo devo fare, ma chi non ha la forza per farlo, chi non ha, questo è il problema. Quindi Luca, scusa, tu hai fatto il caregiver di tua moglie o tua moglie ha fatto il caregiver tuo, non ho capito? No, io ho fatto il caregiver suo. Ah, addirittura, siamo a posto. Eh sì, perché sono andato a accompagnarla. Sì, sì, ho capito, ho capito, ho capito. Iliana, a casa tua, con il marito? Il marito ancora non è vaccinato. Tanto per dirne una. Al quale è stato assolutamente? Eh sì, infatti, secondo me, per giunta, lui lavora con il pubblico, quindi vorrei dire, insomma, è rischiosissimo. I miei genitori sono stati vaccinati, ma io vivo con lui, non con i miei genitori, però, e neanche gli operatori, più vicini a me, sono stati vaccinati. Comunque, guardate che Sandro, mio marito, gli ho preso appuntamento io, alzando un pochino la voce, e ce l'ha il 25 maggio. Sì, sì, poi ci ha avuto parecchio tempo, perché arrivasse, insomma, questo decreto del commissario Figliuolo, che mettessi i disabili in primo piano, insomma, unitamente agli anziani, è recentissimo, quindi capisco, capisco le difficoltà. Iliana, tu poco fa, parlavi dei problemi che sono sempre gli stessi, insomma, barriere architettoniche, e quindi sostanzialmente, insomma, non migliora mai niente, aumentano le norme, l'Europa si esprime, poi alla fine, a lato pratico, siamo sempre lì. Beh, direi che purtroppo ancora oggi su molte tematiche siamo indietro. Non voglio negare che, ad esempio, sulle barriere architettoniche, mentre prima percentualmente nel paese le barriere esistenti erano il 99%, oggi possiamo dire che nel nostro paese le barriere architettoniche sono il 70%, quindi, come dire, proprio a volerla vedere rosea, in ogni caso, qualche cambiamento c'è stato, più che altro perché si comincia a progettare senza barriere, ma quelle che c'erano sono rimaste, soprattutto, come tu mi insegni, nelle scuole, negli edifici scolastici, dove il problema, diciamo, delle barriere, visto che non fanno lavori neanche per la sicurezza, rimane un grande problema. Luca, tu recentemente hai fatto l'ennesima dimostrazione sulla tua carrozzina in quel di Bassano del Grappe, insomma, perché c'è una scalinata che porta vicino a un ponte e la scalinata non ha nessun accesso per la disabilità e la sindaca ha detto intanto iniziamo, facciamo la scalinata bella, tutta illuminata, più avanti faremo l'accesso. Ma io, ma perché devi fare prima la scalinata bella illuminata e poi l'accesso stai facendo i lavori per costruirla, fai tutti insieme che poi tutti possono accedere. C'è un'altra strada per arrivare allo stesso punto senza fare la scalinata, però visto che ha detto che è giusto che ci sia l'accesso perché è un'opera nuova, perché la devi fare tutta in pompa magna sindaco, assessore e tutto il resto. Dove essere per tutti, no? Cioè se noi avassando degli Rapa non abbiamo neanche un magno pubblico o meglio, c'è però se ci vai dentro ti prendi il colera. Ho detto bastava mettere un extra comunitario, uno che ha delle difficoltà, lo facevi un po' più piccolo o gli cambiavi il riposto e lo mettevi lì e lo pagavi, davi anche lavoro, ma invece no, lasciamo che ci siano i tossicodipendenti che vanno dentro, non vadiamo alla pulizia niente. Ho provato a sensibilizzare la precedente amministrazione questa che adesso è della Lega, perciò ho provato e zero. Ho chiesto all'assessore alla sanità della regione Veneto proprio la settimana scorsa, la Lanzarin, e mi ha detto non so cosa fare, devo saperlo io. io lo so, vado lì, faccio altre due foto e la faccio uscire nei giornali, però non voglio arrivare a questo, perché immagino una persona disabile o una donna, una ragazza che anche non ha nessuna disabilità o una turista che arriva a visitare Bassano e sento città storica dove va? se la fa addosso? Non lo so. E sì, che è uno dei bisogni umani che tutti devono fare la pupì. Questo è sempre stato il problema che i disabili forse non devono andare, ma non so cosa dobbiamo fare. Unificante questa cosa, se non altro su questo piano dovremmo essere tutti uguali. Ileana, ho visto su Facebook che tu hai partecipato al manifesto progressista di Agorà, ho anche seguito un po' insomma il dibattito. Ecco, credi che si possa dare una buona spinta dal basso per cambiare tutto ciò che non funziona a livello istituzionale? Beh, io credo proprio di sì. Credo che se si tornasse a fare i conti attraversando il popolo, cioè non parlando con loro dall'alto o dal basso, proprio attraversando le cose potrebbero cambiare. Io chiedo scusa a chi ci ascolta, ovviamente sono di parte, ma credo che Agorà il progetto al quale appunto di cui faccio parte è appunto uno di quegli strumenti che può permetterci di ritornare non solo nelle piazze perché mi ricordano altri al quale non voglio assolutamente assomigliare, ma mi permette anche rispetto al mio partito che è assai complesso viste le varie correnti che esistono, di dimostrare che si può fare un progetto essendo un gruppo e non necessariamente un numero di tesserati e quindi di conseguenza una corrente. Luca, tu dici prima di avere un filo diretto con la segreteria del presidente Draghi, insomma, quali sono con la detta stampa, eh, con la detta stampa, ecco, quali messaggi tu stai veicolando al governo? Parlavi di vaccini, ma insomma tu hai tanto... Parlavo di vaccini, mi ha detto che non ascoltino proprio, sarà mezz'ora fa, gliel'ho proprio scritto un messaggino, che non ascoltino le pressioni sulle riaperture. C'è qualcuno che sulle riaperture, che sono giuste perché la gente se non muore di fame, però c'è qualcuno che cavalca questa cosa qui. non faccio nomi come ha fatto l'Aideana perché non mi piace, forse non mi piace tra le popolarità, certe correnti, chiamiamole così, però ho detto non ascoltate, cioè se una pandemia se l'unico modo come ci hanno detto è l'isolamento, è giusto non essere isolati, però se la condizione è questa bisogna dare i soldi a chi ha delle attività. Ci sono pensioni d'oro o tanti altri modi per tirare chi ha di più deve dare a chi ha meno. Questo è il concetto. Qualcuno che ultimamente diritto gli è stato restituito il vitalizio. No, non ci sto. Non ci sto perché per aumentare le pensioni di invalidità poco tempo fa c'è stata un'associazione di Torino che ha dovuto rivolgersi alla consulta e la consulta ha dichiarato che la nostra pensione che era di 280 euro è da fame ma ci voleva la consulta cioè qua è un discorso di logica e di potere il potere sono un stufo la politica deve essere al servizio del cittadino. Iliana sì sì è chiarissimo quello che hai detto Luca Iliana tu hai detto chiaramente che in questa fase diciamo della tua vita pensi che la forza debba arrivare dalle idee non si debba andare alla ricerca di poltrone insomma quindi rispetto anche alle cose che ha detto Luca ma anche alle cose che pensi tu tu sei sempre stata un'esponente politica Luca è sempre stato un giornalista quindi avete chiaramente ruoli e anche in che punto tu trovi e in che punto tu pensi che debba andare insomma ti ho detto chiaramente che poltrone in questo momento non lo vuoi beh io in questo momento prima di tutto Lucia ti confesso una cosa è la prima volta che lo dico pubblicamente ma io personalmente sono coltenta dopo tre anni non dopo un giorno all'inizio ero molto arrabbiata perché io sono stata messa fuori dalle liste da Renzi con il quale non avevo un buon rapporto ma insomma non voglio parlare del mio caso voglio solo dire che adesso sono contenta di stare fuori per un semplice motivo sono imparato o meglio ho rimparato ad essere utile cioè nel senso che quando entri nel palazzo dei balocchi tu perdi di vista a un certo punto la gente ma basta guardarci intorno e questo si vede per cui il fatto di recuperare me stessa e quindi subito dopo gli altri i disagi degli altri in qualche modo mi ha tornato cioè mi ha permesso di tornare ad arricchirmi nel dare risposte agli altri io in questo momento sono in questa fase ogni giorno lavoro gratuitamente per migliaia di persone lo faccio convinta che sia la scelta giusta magari sbaglio tutto io non credo nell'assistenzialismo lo dico anche a Luca in modo diretto non credo che la politica facciamo due lavori diversi come giustamente dici te la politica non può essere solo gridare la politica vuol dire concretizzare perché Luca può gridare perché fa giornalista e ciò è giusto denunciare dichiarare eccetera il politico deve concretizzare io con la legge 112 sul topo di noi ho concretizzato il sogno di migliaia di genitori e questa cosa come dire mi ha permesso di capire che poi si può fare anche stando in Parlamento qualcosa di vero non mi piace e non tolnero il fatto che ogni cosa sia pretesto per negare che si è privilegiati non è vero non si può negare quando entri nel palazzo dei palotti tu inusore viviente divieni privilegiato perché ci sono regole da anni che non vengono modificate non vengono cambiate e comunque Luca ti dico francamente io il vitalizio non lo prendo no no non l'ha riferito a te ah grazie conosco tantissima gente non senti nulla ah perfetto tu non senti nulla è il mio egocentrismo che mi fa vedere tutto così devo dire che ho preso ottimi stipendi ma devo dire anche che non mi sono mai dovuto giustificare visto che lavoravo e lavoravo tanto mi dispiace quando vedo dei colleghi degli ex colleghi eccetera che prendono ottimi stipendi e non lavorano invece quelli che si prendono le loro responsabilità io credo che sia giusto che abbiano quel che è dovuto non se ho deciso di fare politica so che i costi della politica ci sono anche se molti dicono che non è vero ma sono convinta che ci sono priorità per cui pensare di dare un vitalizio piuttosto che l'aumento della pensione e l'invalidità mi fa tremare le vene però è pur vero che nessuno quando si parla dallo stesso Berlusconi ai tempi d'oro quando si parlava di pensioni nessuno ha mai parlato di pensione di invalidità si ha paura perché prima di tutto siamo tanti secondo c'è un vero problema cioè ci sono tanti che hanno la pensione e non la dovrebbero avere allora io sono contrario alla caccia alle streghe però forse sarebbe utile come dire anche io dico ai stessi disabili farsi un'analisi di coscienza rendersi conto che un'erbia del disco non può essere paragonata a una sclerosi multipla cioè dobbiamo cominciare a rivedere i termini anche legati al bisogno è il bisogno che va quantificato non puoi quantificare il reddito non puoi quantificare il tipo di patologia è il bisogno però tutti ne hanno una gran paura e pensano che sia un lavoro enorme il problema è che non si comincia mai grazie Leana un po' è anticipato anche quella che era la mia ultima domanda la pongo a Luca e poi eventualmente commenti anche tu insomma perché diciamo così i politici di professione fanno fatica a raccogliere le istanze dal basso perché c'è questa distanza che insomma noi che osserviamo noi giornalisti vediamo sempre aumentare insomma c'è una distanza tra il paese reale e chi poi dovrebbe amministrarlo Luca una battuta a te e poi sentiamo di nuovo Leana su questo non lo so forse come ha detto lei quando entri nel paese di Balocchi c'è qualche incantismo che gli fanno e loro non se ne accorrono perché sono tutti così e quando non Leana non te la prendere per quello che sto dicendo ma sto parlando a livello politico progettuale quando tornano fuori dal dal palazzo dei Balocchi hanno sempre delle idee quando sono dentro per magia perché devono seguire le correnti non le esprimono se le esprimono devono stare attenti questo ho notato che quando uno scende dalla carica si potrebbe fare così e quando eri all'interno ci sono persone che persone che hanno avuto il ruolo di potere potere partito onorevoli o qualsiasi certa carica che hanno scelto di seguire la correnta ce ne sono anche che vanno contro il proprio partito e portano avanti dei valori però noto che alcuni si adeguano alla correnta penso ci sia un incantesimo visto da dentro dei valori Leana un po' ci hai già risposto però insomma la visuale cambia? Da dentro è sicuramente più complicato che visto da fuori perché tu quando sei in commissione perché il vero lavoro politico è nelle commissioni non è in aula parlamentare tu devi mettere insieme una serie di ideali di principi di modi di vedere le cose di interessi completamente diversi e devi cercare di nazionalizzare tutto per arrivare a fare una norma il problema vero e poi veramente taccio io credo che quando tu vuoi fare puoi fare in Parlamento stare in un partito significa avere delle regole io non mi sento una qualunquista non voglio esserlo mi dispiace per chi pensa che quando ero lì magari ho fatto una cosa rispetto a un'altra ma far parte di un gruppo non significa sempre condividere ma vuol dire seguire un percorso comune se no siamo tutti bravi diciamo tutti che non va bene che tutto io quando ho votato il job act faccio un esempio siccome non era previsto il rispetto per la disabilità ho votato contro non è un caso che dopo due mesi ero fuori dal Parlamento però quindi ti dico una delle proprie io oneri onori ritengo che vanno presi tutto non si può fare bisogna anche lì capire che la politica è in qualche modo veramente la polis è la condivisione da dentro rispondo a Luca è sicuramente non un incantesimo ma un gioco di squadra che ti permette di raggiungere una meta o altrimenti non la riesci perché mettersi contro il proprio partito vuol dire lasciatevi un dire un termine un po' romanisco insomma ma sputare il piatto in cui mangi diciamo che comunque per concludere insomma questa questa chiacchierata è stato anche un po' un dibattito insomma ma l'avevo previsto conoscendo entrambi anche quelle che sono un po' le specificità insomma dei vostri profili direi che però alla fine insomma di tutto questo l'importante è che ci sia un'etica che guida quelle che sono le nostre azioni da qualunque parte stiamo in qualunque ambito ci collochiamo perché poi è quella che ci guida anche il rispetto per noi stessi per le cose che facciamo e per le persone che rappresentiamo che poi deve guidare insomma quelli che sono i nostri obiettivi e io credo insomma che il livello delle azioni che entrambi avete fatto e le battaglie che avete combattuto nei rispettivi ambiti insomma abbiano lasciato il segno e quindi questa è la cosa più importante io vi ringrazio e vi saluto e poi insomma ci aggiorneremo anche su quelli che sono gli diciamo avanzamenti delle battaglie che continuate a combattere insomma anche in questa fase allora ciao arrivederci a tutti ciao 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 ciao